Non sei ancora riuscito a comprare la casa che volevi? Come quelle volte che hai chiamato e ti hanno detto che c'era una trattativa in corso? Invista è il primo marketplace immobiliare e ti garantisce la possibilità di poter fare la tua migliore offerta per acquistare un immobile in tutta sicurezza e con al massimo l'1% di commissione. Dopo la visita, se l'immobile sarà di tuo gradimento, ti basterà depositare la cauzione sul conto corrente dedicato del notaio per avere la certezza di poter presentare la tua migliore offerta fino alla scadenza del periodo di vendita garantendoti l'acquisto con la trasparenza e sicurezza del metodo Invista e in poche settimane dall'inizio del processo.